Un nuovo centro giovanile per la città dei ragazzi. Mercoledì 8 dicembre, in occasione dell'annuale festa, Monsignor Antonio Lanfranchi ha benedetto la prima pietra del nuovo spazio dedicato ai giovani. Con questa prima pietra fondiamo un nuovo stabile, un nuovo edificio che ci permetterà di accogliere in maniera più migliore, ma più corretta anche, tutti quelli che sono i giovani che vogliono accedere alla città dei ragazzi. È previsto nell'edificio una parte dedicata esclusivamente ai giovani in modo tale da poter avere anche a disposizione una sala di circa 300 persone per poter parlare e presentare tutte quelle che saranno le iniziative future della città dei ragazzi a chi sarà interessato a partecipare. Questa è la finalità. Noi spazi ne abbiamo tanti, ma erano tutti spazi abbastanza ristretti. Con questo nuovo edificio si vuole dare una risposta invece allargando gli spazi a tanti nuovi partecipanti delle nostre attività. Siamo contentissimi nonostante un po' il freddo, ma la giornata è bella. Già dal mattino siamo partiti con il dimostrativo di rugby che ha visto tanti ragazzi di diverse nazionalità raccolti nel nostro campo, qui a 7 e poi anche in chiesa a tantissimi ragazzi, tantissimi bimbi e ragazzi che frequentano la città dei ragazzi per diversi motivi. E questo per noi è il motivo più importante. Prima delle strutture, prima delle strutture, ce la dobbiamo ricordare, vengano le persone, i ragazzi, le relazioni con loro. E sono certo che i ragazzi stiano davvero attendendo da noi delle proposte significative perché possano crescere. Quindi sono molto contento che la CDR oggi festeggi 63 anni. e dal 47 che continuiamo a festeggiare l'Immacolata perché vuol dire che è viva e continua a dare un segno importante per la città di Modena a favore dei ragazzi. Prima della benedizione, a cui erano presenti il sindaco di Modena, Giorgio Pighi, e il senatore Carlo Giovanardi, un'esibizione di palla ovale con giocatori del Modena Rugby e ragazzi della CDR e la celebrazione eucaristica preseduta dall'arcivescovo. Ci siamo ritrovati con una trentina di ragazzi della scuola e di diverse etnie, dal Marocco, Tunisia, Guinea, Romania e pure Pakistan e India, per fare una partita di rugby. Sono intervenuti cinque ragazzi della squadra del Donelli, della Serie A e ci siamo incontrati facendo due squadre per confrontarci con questo sport che attraverso le sue regole dovrebbe teoricamente darci un equilibrio anche all'interno della scuola. È un'iniziativa che è il secondo anno che facciamo e l'anno scorso erano intervenuti un pochino di ragazzi in meno. Quest'anno eravamo in di più ed è andata molto bene. La partita è stata vinta da una squadra ovviamente che pagherà la merenda per quelli che hanno perso la prossima settimana e niente, è stata una bellissima giornata e speriamo che vada sempre meglio negli anni a venire. Il CAG che da settembre ha preso corpo qua alla CDR ma che esiste già da alcuni anni a Modena sotto la guida di Animatamente che nasce dalla pastorale giovanile vuole essere un luogo di accoglienza per i ragazzi che nell'informalità partecipano agli spazi della CDR. Infatti non tutti i ragazzi che vengono qua partecipano alle attività sportive o alle attività scolastiche e per questi vorremmo dare un luogo di accoglienza e di proposta educativa che possa essere adatta anche a loro.